Gloria a Dio, pace del Signore nostro Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, è una grande gioia ritrovarci qui insieme in un'altra convocazione, in un'altra riunione spirituale qui online. A me una grande gioia, gloria al Signore, al Re dei Re, al nostro Padre, vi saluto nell'amore di Cristo e vogliamo ancora dedicare del tempo alla riflessione biblica, a meditare, a edificarci nella parola di Dio perché i veri figli, i veri servi di Dio sono tutti coloro, che in ogni luogo, alleluia, stanno saldi nella parola di Dio. Vi mando un grande abbraccio qui dalla città di Milano, dove per adesso siamo per grazia di Dio, per volontà di Dio. Amen. E gloria a Dio, vogliamo ancora edificarci nella presenza del Signore. Alleluia. Padre, ti chiedo, Signore, che sia il tuo Spirito Santo a guidare questo tempo di comunione, di riflessione della tua parola, di preghiera, Signore, alleluia, affinché ognuno di noi possa essere edificato, possa bere dalla fonte dell'acqua della vita, Signore. Purificaci, lavaci e rinnovaci in questo tempo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace a tutti voi nell'amore del Signore. Vi chiedo scuse in anticipo, se per qualche ragione dovrò mettere pausa, per così dire, a questa diretta. Amen. Comunque, con l'aiuto di Dio passeremo un po' di tempo insieme. Gloria a Dio, ovunque vi troviate, veramente è una gioia poter essere insieme nello Spirito Santo di Dio. Gloria al Signore, Signore, sento in cuore di dirvi se qualcuno di voi ha qualche domanda biblica, qualche domanda, qualche cosa che vuole sapere, qualche domanda. Amen. Potete scriverla e insieme, con l'aiuto dello Spirito Santo, cercheremo la risposta, gloria a Dio, nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Amen. Perché la Bibbia, la parola ispirata di Dio, ci dà ogni risposta. Alleluia. Perciò, cari fratelli e sorelle, se avete qualche domanda da poggere sulle Sacre Scritture, su qualcosa che forse non vi è chiaro, non avete capito. Amen. Come fratello in Cristo, come vostro fratello, sono gioioso di potervi aiutare alla gloria di Dio, perché i veri servi di Dio devono dare gratuitamente quello che hanno ricevuto gratuitamente dal Padre. Perciò, se avete qualche domanda, ripeto, biblica, volete scriverla, scrivetela, gloria a Dio. Se avete qualche richiesta di preghiera, poi ci uniremo nel nome di Gesù. Alleluia. E cercheremo la potenza, la presenza del nostro Dio. Amen. Ovunque ci sono due o tre radunati nel mio nome, io sono lì presente in mezzo a loro. E noi siamo qui, fratelli. Anche se siamo uniti attraverso questi mezzi di comunicazione, gloria a Dio, come internet, però siamo uniti. Amen. Nello Spirito di Dio. Alleluia. Perché il Signore è in mezzo a noi, Egli vive nei nostri cuori. Amen. Ed è Lui che ci guida e ci rinnova giorno per giorno. Che Dio vi benedica a tutti voi, che siete in linea, tutti voi che vi state aggiungendo a questa diretta per la gloria del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo il Benedetto in Eterno. Amen. Per iniziare, cari del Signore, voglio leggere un Salmo che Dio ha messo nel mio cuore. Amen. Alla gloria del suo santo nome. Gloria a Dio. Alleluia. Salmo 134, dal verso 1, è un Salmo molto breve, perché contiene dei grandi insegnamenti per le nostre vite spirituali. E insieme con l'aiuto del Signore e dello Spirito di Dio vogliamo trarne profritto, vogliamo imparare, vogliamo fortificarci nella parola del Signore. Amen. Nel nome del Signore dice Ecco, benedite l'Eterno, voi tutti servi dell'Eterno. Alleluia. Che state nella casa dell'Eterno durante la notte. Alzate le vostre mani verso il santuario. Amen. E benedite l'Eterno. Ti benedica l'Eterno da Sion. Egli che ha fatto i cieli è la terra. Vi benedica il Signore da Sion. Egli che ha fatto i cieli è la terra. Che parole meravigliose, parole veramente ispirate da Dio, che portano luce, un rinnovamento spirituale, un incoraggiamento, un risveglio all'anima nostra, alla nostra fede, alla nostra consacrazione. Amen. Questo è un richiamo, cari fratelli e sorelle, in Cristo. È un richiamo dello Spirito Santo a lodare Dio. Infatti Gesù stesso disse, scritto nell'Evangelo di Giovanni, Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo darà, ve lo farà conoscere. Egli mi glorificherà. Cioè uno dei compiti divini, supremi dello Spirito Santo di Dio è portarci a glorificare il nome del Signore, portare il credente, portare la Chiesa, portare un'anima, una persona, a glorificare, a lodare, a benedire il nome del Signore. Amen. Nome al di sopra di ogni altro nome. Nome che pari non c'è. Amen. Il nome di Gesù, Yeshua. Alleluia. Il nostro amato Salvatore. Oh, alleluia. Invocalo. Invocalo. Invocale il suo nome in questo momento. E tu sentirai fiumi di acqua viva che sgorgeranno dal tuo seno. Invocale il nome del Signore adesso. Forse ti senti debole, ti senti stanco, hai passato una giornata difficile, sei stato travagliato, appesantito dai problemi della vita. Ma ti voglio dire, se adesso tu inizi a benedire, a proclamare, a invocare il nome del Signore, per certo lo Spirito di Dio ti rinnoverà e tu sentirai come una pioggia, una pioggia spirituale scendere su di te e annaffiare la tua terra. Alleluia. Io verserò fiumi nel deserto, dice l'Eterno, torrenti nella solitudine e vererò il deserto e lo farò diventare come un giardino, dice il Signore. Ecco perché lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, ci deve guidare del continuo, a glorificare il nome del Signore, perché quando la Chiesa, quando il credente, quando un'anima riscattata dal sangue dell'agnello, pur trovandosi nell'avversità, nelle prove, nelle tribolazioni, inizia a lodare, a benedire, a glorificare il nome del Signore, e fratelli, la lode porta a liberazione, la lode porta a un cambiamento, prima di tutto in noi stessi, ma anche nell'ambiente dove ci troviamo. Fratelli e sorelle, vi ricordate quella storia meravigliosa biblica che per noi è un grande insegnamento quando Paolo e Sila, servitori dell'Iddio Altissimo, si trovarono in carcere a Filippi. Cos'era, fratelli? Era un bel luogo? No, fratelli, era un carcere tenebroso, probabilmente un carcere buio, freddo, mal ridotto, malfamato, ma quel luogo, quel carcere buio, diventò un luogo di adorazione, un luogo dove la gloria di Dio si manifestava. Amen? Paolo e Sila, mezzanotte, dice la scrittura, anche se si trovavano nella parte più interna della prigione, loro non si lamentarono, loro non piansero, loro non iniziarono a proferire parole negative o parole di maledizione, ma loro, alleluia, iniziarono a benedire il nome del Signore. Ti trovi nell'avversità? Benedici il nome del Signore. Ti trovi nella prova? Benedici il nome del Signore. Ti trovi nella sofferenza? Benedici il nome del Signore. Perché quando tu benedici il nome del Signore, il Signore benedice te, il Signore rinnova te, il Signore fortifica la tua vita, alleluia, se stai passando la prova, l'avversità, il momento buio, benedici il nome di Gesù Cristo e tu vedrai, tu sperimenterai come l'unzione scenderà dal cielo. Alleluia. Alleluia. Questo Salmo, fratelli e sorelle, è un richiamo, è un richiamo, è un richiamo divino, non da parte dell'uomo, è un richiamo direttamente, alleluia, dallo Spirito Santo a lodare, a benedire, a glorificare il nome del Signore. Alleluia. È una parola che deve risvegliare l'anima che si addormenta. Ehi, è una parola che deve rinnovare la mente oppressa, è una parola che deve liberare il cuore appesantito, è una parola che deve scuotere, che deve, gloria a Dio, rialzare il cuore della Chiesa, il cuore di coloro che ascoltano, il tuo cuore, perché la parola di Dio, fratelli e sorelle, è la potenza che vivifica, che rinnova, che ristora la nostra vita, cari nel Signore. E in questo Salmo c'è un richiamo da parte dello Spirito Santo di Dio affinché il popolo di Dio possa benedire il nome del Signore. benedire vuol dire glorificare, lodare, magnificare, benedire vuol dire che tu lo esalti, lo ringrazi, inizi a dire gloria a Dio, cose grandi del Signore, inizi a dire Signore ti adoro, tu sei grande, tu sei prezioso, Signore sei la mia vita, la mia forza, Gesù, alleluia, ti glorifico, non importa la prova, non importa la sofferenza, non importa l'avversità, io so che tu sei grande, quando tu lodi il Signore tu stai dicendo Signore tu sei più grande della mia avversità, tu sei più grande della difficoltà, tu sei più grande dei miei problemi, tu sei più grande della mia malattia, tu sei più grande Signore di ogni cosa, tu sei più grande, alleluia, gloria a Dio, quando quando noi iniziamo a glorificare, a lodare, a inalzare il nome del Signore, fratelli, questa lode porta un cambiamento, prima di tutto dentro di noi un cambiamento interiore, un cambiamento nella mente, nell'anima, nel cuore, la lode ci porta in contatto con il Dio della gloria e la sua manifestazione, gloria a Dio, si manifesta in nostro favore, come quando Paolo e Sila lodarono il Signore trovandosi nel carcere di Filippi, era mezzanotte, fratello, se tu vuoi lodare Dio, non devi guardare l'orario, fratelli, è una vergogna che oggi in molte comunità lodano Dio con gli orari, non danno spazio, non danno libertà allo Spirito di Dio, in questi culti moderni, pretendono di dare un tempo allo Spirito Santo, stai sbagliando di grosso, lo Spirito Santo non ha tempo, lo Spirito Santo è l'eterno, lui vuole che lo lodi in ogni tempo, gloria a Dio, in ogni momento, alleluia, com'è possibile mettere dei limiti allo Spirito Santo, com'è possibile bloccare lo Spirito Santo, com'è possibile fratelli, rinchiudere la presenza, la manifestazione di Dio, la lode in uno schema orario, fratelli e sorelle, la Chiesa, tu e io, dobbiamo lasciare piena libertà allo Spirito Santo, fratelli, se no, è inutile poi lamentarsi, perché non vediamo la potenza di Dio, perché non sentiamo più la presenza di Dio, i culti sono spenti, la Chiesa dorme, e la Chiesa si lamenta, ma è la Chiesa stessa che spegne lo Spirito di Dio. Fratelli, noi dobbiamo immergerci nella presenza di Dio, lasciare da parte gli orologi, lasciare da parte gli orari, i programmi umani, ma noi dobbiamo dare, alleluia, tutto il nostro cuore, essere e tempo al Signore, dobbiamo umiliarci, dobbiamo gloria a Dio veramente, lasciare il comando nelle mani dello Spirito Santo, come possiamo noi, fratelli e sorelle, mettere un orario alla potenza di Dio? È tempo che la Chiesa si ravveda, è tempo che veramente, oh, alleluia, i servitori di Dio, i ministri dell'Eterno, gli anziani del popolo, inizino, è tempo che ognuno di noi inizi ad avere la visione spirituale, fratelli, è una vergogna che in alcuni luoghi i culti sono così schematici, meccanici, che si sa l'ora di inizio e si sa l'ora della fine, non c'è mai nulla di nuovo, non si lascia mai lo spirito di Dio operare, si è caduto in un formalismo religioso che porta il credente, la Chiesa a stagnarsi, a fossilizzarsi spiritualmente e non c'è più quella vitalità, quella unzione divina, quella libertà, quella spontaneità, quella gioia, alleluia, sapete voi che ci sono chiese in cui i credenti non possono alzare le mani, non possono battere le mani per lodare il re dei re, eppure la Bibbia nei salmi dice o popoli tutti battete le mani all'eterno l'iddio di tutta la terra, mandate grida di gioia all'eterno, ci sono comunità fratelli che i culti sembrano fatti dalle statue, scusate la parola, dalle mummie, nessuno dice gloria a Dio, nessuno dice alleluia, nessuno dice signore sei grande, nessuno dice spirito santo bisogno di te, nessuno dice gloria al re dei re, è il fuoco fratelli, dov'è il fuoco, dov'è, alleluia, il fervore, la passione per il re di gloria, quando eravamo nel mondo gridavamo negli stadi, sorella, quando eri nel mondo ti strappavi i capelli, quando vedevi il tuo cantante preferito, gridavi davanti al tuo attore preferito, fratello, pastore, quando eri nel mondo gridavi, quando il tuo calciatore faceva un gol allo stadio, gridavi, e oggi non puoi gridare davanti al re dei re, ravvediti, sei diventato una statua spirituale, nel tempio di Dio, Dio non vuole statue, Dio non vuole, oh alleluia, dei muti, Dio vuole una chiesa che lo loda, che lo glorifica, che grida, alleluia, Dio vuole una chiesa piena di gioia, di potenza, amen, alleluia, alleluia, fratelli, spesse volte ascolto, mi dispiace dirlo, non solo qui nel nord Italia, ma anche in altre zone, nel sud, fratelli che si lamentano e dicono oh i culti sono spenti, la chiesa è spenta, non si sente più quella gioia, i credenti non glorificano più Dio, ma di chi è la colpa, fratelli? La colpa non è solo dei ministri, la colpa è anche del popolo che si fa impaurire, si fa bloccare dai ragionamenti umani, dalle regole umane, ma la Bibbia dice, gloria a Dio, amen, che quando Gesù entrò in Gerusalemme, i discepoli gridavano gloria a Dio, dicevano osanna, alleluia, osanna al re dei re, e sapete che i farisei, i farisei, c'è sempre qualche fariseo in giro, che voleva far tacere la gioia, l'esultanza, la lode, volevano far tacere i discepoli e questi farisei dicevano signore, manda, ordina i tuoi discepoli di non gridare troppo, fratelli, ai farisei dà fastidio la lode, a quelli che vivono una fede superficiale, un'esteriorità, un'formalismo, dà fastidio questo tipo alleluia, di predicazioni, lode, questo, alleluia, questo modo di glorificare Dio, sai perché? Perché loro vogliono rimanere nella loro comodità, non vogliono vedere uno scuotimento, un cambiamento, loro si sono adagiati in una comodità, in uno standard, in un formalismo, c'è un formalismo, una una apparenza, fratelli, ma ne hanno rinnegato la potenza, ecco perché Gesù stesso, fratelli e sorelli, diceva a una delle sette chiese dell'Apocalisse, tu hai il nome di vivere, ma sei morto, questa sera qualcuno mi ha detto, fratello Ansaldo, nella comunità che io a volte frequento, a volte sembra di essere in una messa cattolica, in una chiesa cattolica, nessuno dice gloria a Dio, nessuno dice alleluia, quando c'è il predicatore che predica nessuno dice più amèn nella predicazione, fratelli, quanto è bello quando si predica l'Evangelo per la gloria di Dio, quando il predicatore predica e qualcuno dice amèn, e un altro dice alleluia, e un altro dice gloria a Dio, quanto è bello, fratelli, quanto è prezioso che il popolo di Dio lodi con fervenza, con fervore, con libertà, con spontaneità, quanto è bello, fratelli, per la grazia di Dio, io sono un predicatore del Vangelo di Cristo per la misericordia, e quando predico, quanto è bello sentire qualcuno che dice amèn, questo ti incoraggia, questo ti carica, alleluia, quando il popolo di Dio dice amèn, vuol dire che sta ricevendo la parola, che sta glorificando Dio, che sta veramente amèn, alleluia, sta sentendo la parola, la presenza di Dio, e questo è anche un incoraggiamento per i predicatori, anche il popolo ha una responsabilità, una santa responsabilità, ascoltate, di mantenere accesi i predicatori, sapete voi che a volte il popolo col suo atteggiamento freddo può spegnere il predicatore, ma se invece il popolo è fervente, è gioioso, è sveglio, questo mantiene acceso anche il predicatore, alleluia, perciò cari fratelli e sorelle, tutti noi, tutti noi, ognuno di noi, nessuno escluso, ma tutti noi, che siamo il popolo del Dio vivente, tutti noi abbiamo una responsabilità, fratelli, di mantenere acceso il fuoco di mantenere acceso il candelabro, di mantenere acceso alleluia, il fuoco nel cuore, nella comunità, nell'assemblea, abbiamo una santa responsabilità di mantenere accese le nostre lampade, tu e io, i predicatori, ma anche gli ascoltatori, ognuno di noi abbiamo il santo dovere di mantenere acceso il fuoco, ecco perché, fratelli e sorelle, questo salmo, amen, ci richiama, alleluia, a ognuno di noi a benedire, a lodare il nome del Signore, perché ti voglio dire, quando tu lodi, quando tu benedici, glorifichi il nome del Signore, i legami si spezzano, le catene si rompono, le tenebre fuggono, i demoni fuggono, vi ricordate quando Davide, il dolce cantore di Israele, lui suonava l'arpa, lui glorificava Dio con la sua arpa, lui suonava l'arpa, gloria a Dio, e quando Davide suonava l'arpa, lo spirito cattivo che tormentava Saul, fuggiva via, ti voglio fare una domanda questa sera, chi sei tu? Che tipo di persona sei tu questa sera? Sei tu un Davide che suona l'arpa o sei un Saul tormentato dagli spiriti cattivi? Tu sei uno dei due o tu sei un Davide che suona con l'unzione di Dio l'arpa oppure tu sei un Saul oppresso, schiacciato, tormentato da uno spirito cattivo? Chi sei tu questa sera? Chi siamo noi questa sera? Chi sono io questa sera? sei tu un Davide che loda Dio con l'unzione di Dio o sei tu un Saul perché il tuo cuore si sta raffreddando perché ti stai confondendo ti stai conformando a questo mondo ti stai facendo trascinare dalla corrente di questo mondo ti sei deviato come Saul ti sei raffreddato come Saul ti sei contaminato come Saul oppure sei tu un Davide un adoratore un uomo una donna che lodano che benedicono che innalzano il nome del Signore da che parte stai questa sera? sei tu uno di quei discepoli che grida osanna al re di re oppure sei tu un fariseo che non accetta la lode che si infastidisce del troppo rumore che si infastidisce che si infastidisce quando qualcuno grida gloria a Dio ti fastidisci ti disturba fratello sorella pastore che sei lì chi sei tu questa sera? che Dio ci aiuti cari fratelli ad essere delle persone che lodano Gesù Cristo con tutta la passione e la e il fervore della loro anima del loro cuore Salmo 134 ecco benedite l'eterno voi tutti servi dell'eterno questo un richiamo dello spirito santo a coloro che sono veri servi dell'eterno perché se tu non sei un servo o una serva del Signore tu non lo puoi benedire soltanto i veri servi possono benedire il nome del Signore con la loro vita lo possono onorare magnificare inalzare i veri servi di Dio sono quelli che fanno la sua volontà i veri servi di Dio sono quelli che si consacrano a Lui i veri servi le vere serve sono quelli che amano la sua parola che vogliono fare la sua volontà la volontà del Signore i veri servi sono quelli che camminano per lo spirito e non più nella carne sei tu un vero servo di Dio sei tu una vera serva di Dio cosa sei tu questa sera questo messaggio di riflessione per ognuno di noi nella presenza del Signore benedite l'Eterno voi tutti servi dell'Eterno che state nella casa dell'Eterno durante la notte fratelli la notte rappresentano le tenebre la notte rappresentano l'oscurità di questo mondo peccaminoso le tenebre sono una figura degli ultimi tempi l'Apostolo Paolo per lo spirito di Dio diceva la notte è avanzata è ora è ora è ora che ci svegliamo dal sonno perché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo fratelli la notte rappresenta la confusione di questo mondo di questa Babilonia ma nella notte i veri servi di Dio devono stare nella casa di Dio perché nella casa di Dio c'è la protezione nella casa di Dio c'è il caldo il calore la presenza di Dio la pace il rifugio sicuro qui dice che state nella casa dell'Eterno durante la notte dove dove ti trovi tu durante la notte dove ti trovi tu noi dobbiamo stare nella casa di Dio che come dico sempre alleluia non è un luogo materiale non è una casa materiale ma è un luogo spirituale di comunione di intimità con il Signore di una giusta relazione con Lui nella sua presenza nella sua volontà fratelli in questa notte tenebrosa di questi ultimi tempi noi dobbiamo rimanere nella casa del Signore non uscire dalla presenza del Signore non uscire dalla comunione col Signore non uscire dalla fede ma rimani in quel luogo di rifugio di sicurezza di salvezza che è la presenza del nostro Dio amè e poi nel verso 2 salmo 134 alzate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore in altre parole qui lo Spirito Santo ci richiama ad alzare le mani verso il cielo verso il re del re verso il trono di Dio perché quando noi alziamo le mani siamo dimostrando che abbiamo bisogno di Lui che dipendiamo da Lui amè che ci arrendiamo a Lui quando alziamo le mani dimostriamo di confidare in Lui come dice il canto io alzo le mani anche se non ho forze io alzo le mani anche se ho mille problemi nel nome di Gesù io alzo le mani perché quando alzo le mani comincio a sentire l'unzione il fuoco la presenza divina del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo che ci ristora che ci rinnova che ci rialza che ci purifica guarisce che toglie i pesi dalla mente dall'anima quando alziamo le mani possiamo sentire quella presenza meravigliosa quel fuoco quell'unzione divina che fa una opera nuova nella nostra vita a Dio sia tutta la gloria e poi nel verso 3 dice ti benedica l'eterno da Sion egli che ha fatto i cieli e la terra ed è interessante fratelli esaminare che questo salmo inizia dicendo benedite il Signore servi del Signore beneditelo e poi finisce con la frase ti benedica il Signore perché quando noi lo benediciamo quando noi siamo disposti a benedirlo quando noi desideriamo benedirlo poi è lui che benedice noi vuoi ricevere la benedizione del Signore prima sei tu che lo devi benedire lo devi ringraziare lo devi lodare devi essere ben disposto al di là delle tue prove o delle tue avversità devi essere disposto a lodare il Signore e tu vedrai come lui ti benedirà dal cielo ti ristorerà dal cielo ti fortificherà dal cielo ma prima benedicilo benediciamo il Signore fratelli in questo momento alza le tue mani ringrazialo inizialo a ringraziarlo con le tue parole con il tuo cuore in un modo spontaneo come Davide ispirato da Dio il salmista diceva io offrirò al Signore sacrifici di lode le offerte spontanee della mia bocca io loderò glorificherò salmeggerò al Signore alza le tue mani lì dove ti trovi alleluia nella tua avversità nella tua solitudine nel momento difficile nella prova che stai attraversando lodalo alleluia fe chitaramasharamataramasecatai alleluia sore mederesce loda 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 al Signore non tacere non ti fermare loda Dio ringrazia il re dei re perché lui ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia non importa il momento difficile che stai attraversando loda il re dei re ricordati delle meraviglie che gli ha fatto inalzalo glorificalo alleluia come il salmista che diceva anima mia benedici il Signore anima mia lodalo anima mia non dimenticare alcuno dei suoi benefici fratello sorella non ti dimenticare dei benefici che il Signore ti ha elargito ti ha dato lodalo in questo momento chiudi i tuoi occhi nella sua presenza apri la tua bocca apri il tuo cuore glorifica il re dei re lodalo alleluia alleluia perché nella lode lo Spirito di Dio fa una grande opera nella nostra vita alleluia lodalo lodalo alleluia ringrazialo inalza il nome del Signore questa sera alleluia alleluia come Paolo e Sila che a mezzanotte in quella prigione in quel luogo ostile loro iniziarono a lodare a glorificare a invocare il nome del Signore e quel luogo ostile diventò un luogo di adorazione di preghiera un luogo di pace un luogo di liberazione un luogo dove la potenza di Dio si manifestò alleluia lodalo lodalo alleluia 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 gloria al tuo nome Padre alleluia oh Re dei Re ti ringraziamo Signore ti benediciamo Padre ti amiamo Padre abbiamo bisogno costantemente della Tua presenza Signore che la nostra vita Signore sia un tempio di lode per Te Signore che ognuno di noi nelle Tue mani possa essere uno strumento per benedire per glorificare per inalzare il Re dei Re alleluia Signore alleluia alleluia Signore questa sera questa notte vogliamo Signore vedere quella grande luce come Paolo e Sila videro Padre nel buio della prigione quella grande luce risplendere quella presenza quell'unzione meravigliosa alleluia alleluia Signore metti quel cantico nuovo nel cuore dei miei fratelli nel nome di Gesù Signore se in questo momento c'è qualcuno afflitto sofferente abbattuto Signore se c'è qualcuno che è scoraggiato in questo momento Signore che lo Spirito tuo Santo possa rinnovare liberare rialzare l'oppresso l'abbattuto Signore nel nome di Gesù te lo chiediamo fai una grande opera questa sera alleluia in quei cuori stanchi in quei cuori deboli in quei cuori che forse sono tristi Signore metti la tua gioia alleluia in questo momento nel nome di Gesù metti la tua pace la tua unzione che porta libertà che porta ristoro Signore liberazione quel rinnovamento spirituale quella guarigione nella mente nell'anima Signore nel nome di Gesù Cristo che ogni pensiero malvagio che ogni oppressione che ogni cosa negativa in questo momento vada via nel nome di Gesù nel nome potente di Gesù Cristo il Signore dei Signori che ogni mente sia liberata ristorata da te Padre oh alleluia illumina le nostre menti i nostri cuori e aiutaci a essere veri servi tuoi che dimorano nella tua presenza Signore lavaci lavaci con il prezioso sangue del tuo amato figliuolo Gesù Cristo riempici col tuo Spirito Santo facci essere Padre per la tua gloria come delle colonne nel tuo tempio che non escono mai dal tuo tempio dalla tua presenza dalla tua volontà Padre Signore fai un'opera nuova in questo momento Padre in tutti coloro che ti stanno pregando nel nome di Gesù amè amè alleluia amè gloria al Signore cari fratelli prima di finire voglio condividere con voi un altro verso che il Signore appena messo davanti ai miei occhi amè dal libro del profeta Geremia addio sia la gloria dal libro del profeta Geremia capitolo 20 amè è una parola che conferma ciò che abbiamo meditato e ciò che il Signore ha detto ha parlato ai nostri cuori per la sua gloria Geremia alleluia capitolo 20 verso 13 dice cantate all'eterno cantate al Signore cantate a Dio lodate l'eterno perché perché ha liberato la vita del bisognoso dalla mano dei malfattori cantate all'eterno lodate il Signore perché ha liberato la vita del bisognoso dalla mano dei malfattori gloria a Gesù Cristo cari fratelli con questa parola vi saluto nell'amore del nostro Dio amè continuerò nel nome meraviglioso di Gesù Cristo a pregare per le richieste di preghiera che avete scritto se avete delle richieste ancora scrivetele e per la gloria del Signore continueremo a pregare e a invocare il meraviglioso nome del nostro Signore Gesù Cristo amè fratelli rimaniamo saldi nella fede rimaniamo saldi nella parola rimaniamo saldi nella presenza costanti nella preghiera uniti nello spirito di Dio amè e continuiamo fratelli a servire questo grande Dio questo Signore meraviglioso che ha avuto pietà di noi e ci ha strappato dalle tenebre portandoci alla sua meravigliosa luce per proclamare le sue virtù fratelli e sorelle vi incoraggio vi esorto nell'amore di Dio a prendere forza nel nome del Signore e a proclamare Cristo in ogni luogo fratelli e sorelle perché il tempo è breve testimoniamo di Lui parliamo di Lui amen predichiamo il suo glorioso Vangelo in ogni luogo dove il Signore ci fa andare amen questo è il compito dei cristiani amen fratello come dice la scrittura adempi il tuo ministerio amen il ministerio della chiesa è il ministerio della riconciliazione Dio ha posto in noi in te in me la parola della riconciliazione e con quella parola predicata con il Vangelo di Cristo noi possiamo per la gloria di Dio riconciliare gli uomini al Signore mediante la predicazione lo Spirito Santo agisce opera per portare ravvedimento nei cuori convincimento conversione nel cuore di coloro che sono lontani da Dio vi racconto per la gloria del Signore come questa mattina insieme a un altro caro fratello abbiamo visto la gloria del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha guidato a predicare nel cuore di Milano in piazza Duomo dove c'erano migliaia migliaia di persone in modo particolare una coda lunghissima una fila di persone che entravano in quel tempio pagano idolatrico dove dove si predica la menzogna e proprio in quella piazza questa mattina lo Spirito Santo ci ha dato grazia di predicare la verità di Cristo il Signore a migliaia migliaia di persone e tanti hanno ascoltato e mentre predicavo alleluia vedevo come riflettevano come la parola illuminava i loro occhi gloria a Dio e ho avuto una grande gioia fratelli di vedere migliaia di persone che ascoltavano la parola e nessuno ci ha impedito di predicare perché questa è l'opera di Dio fratelli e nessuno la può fermare mettiamoci a disposizione del Signore perché grande è la gioia di servire Cristo e grande è la ricompensa che egli ha preparato per i suoi fedeli e ogni cosa che facciamo è per la sua grazia perché noi siamo servi inutili e perciò ringraziamo benediciamo e glorifichiamo alleluia il nome del Signore che è benedetto in eterno che Dio vi continui a benedire cari fratelli e sorelle a me continuerò a pregare a presentare ogni richiesta davanti al trono della grazia nel nome di Gesù Cristo e anche voi pregate per noi pregate per me per la mia vita per la mia famiglia e per tutto il popolo di Dio amè che la pace e la grazia del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi nel nome di Gesù amè amè e amè alleluia alleluia grazie padre